su questo gruppo napoletano un gruppo napoletano signor Lusa di Lusa famoso chitarista del gruppo Lusa di Lusa Andrea Cioffi famosissimo chitarista parlaci un po' di chi allora che vi devo dire? allora io sono il chitarista del Lusa di Lusa il gruppo di una delle voci più belle almeno della campagna per me in Italia che è Alfredo del Crisis però voglio dire pur essendo un chitarrista diciamo ho delle mie necessità espressive per questo ho scritto qualche pezzo e ogni tanto mi va di raramente in realtà mi va e stasera mi andava di di proporre le mie idee quindi vi faccio un paio di pezzi un altro solo che sistemo il capo tasto ok allora io mi chiamo Andrea Cioffi ripeto il primo pezzo che faccio parla fondamentalmente di quanto sia facile nella vita commettere degli errori e questa è la mia visione dell'errore diciamo di come si può superare l'errore che si fa nella vita è sempre solo in un momento si ci pensa che a rete non si può tornare non può fare niente non dà giudizio che a sbagliare non c'è con niente è pure obietta non l'avessi fatta mai ma è sbagli non ne può capire si non ne fai è po' obietta ma non serve proprio a niente ma non serve o passavo male che fa ti penso in un momento che non serve niente ma che può fare Se la vita ti ha portato a casa Si sta da due perché sta non ci può passare Ma sei moreno Ma rimane dai meglio E questo era il primo Grazie